Purtroppo la guerra è guerra, è inutile stare lì, quindi non è che girano cioccolatini, girano pallottole e noi di pallottole ne abbiamo visti tanti. Non c'era pace, non c'era mangiare, non c'era vestire, non c'era le scarpe, non c'era niente, 20 gradi sotto zero, ma da Natale a Pasqua era tormenta. Era quella vita, morirono la metà. Grazie. 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 Grazie.